20 ordini professionali in quattro regioni, più di 16.000 avvocati, è l'organismo che racchiude le toghe di Marche, Abruzzo, Umbria e Molise, per il quale è stato eletto alla presidenza l'avvocato di Campobasso, Demetrio Rivellino. Un incarico di prestigio che reca vantaggi sia ai professionisti che all'utenza. Sono rimasto molto soddisfatto per questo incarico dopo aver per tanti anni condotto l'ordine distrettuale di Campobasso che ho lasciato da pochi giorni in ottime mani. Quello della riorganizzazione della giustizia è uno dei temi caldi della politica. Le piccole regioni, tra le quali anche il Molise e l'Umbria, sono nell'elenco di quelle che hanno rischiato la chiusura delle corti d'appello, con evidenti ricadute negative non solo in ambito giudiziario ma anche per il tessuto economico e sociale, un punto sul quale l'ordine interregionale non intende arretrare. Sicuramente. Il nuovo ministro, l'attuale ministro della giustizia, è teso verso la giustizia di prossimità. Questo ci fa piacere perché il precedente guardasigilli invece aveva proprio tentato di centralizzare tutto. Abbiamo visto che dove sono stati soppressi i tribunali, come è successo a Lucera che è vicino a noi, c'è stato il disastro completo. Oltretutto i nostri tribunali, alcuni nostri tribunali sono virtuosi, la nostra corte d'appello è virtuosa. In questo Paese bisogna finire di penalizzare chi è virtuoso, bisogna premiare chi è virtuoso. E questi 20 ordini e i 4 distretti che rappresentano sono distretti virtuosi che procedono bene e che danno soprattutto risposta alla domanda di giustizia.